Se volete acquistare crediti passate da IGVOLT, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, io sono Joey Spot, lo staff di NMF e benvenuti nella player review di Buffon nella sua versione Tots con 93 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno 60 like o mi piace per questo giocatore portiere per questa review, secondo me li raggiungiamo tranquillamente. E voglio citare la fortuna di Luca che ha trovato Buffon Tots in un pacchetto. Iniziamo subito. Primo pro, tuffo. Ha un 94 in game, si sente, si sente perché si tuffa molto molto bene. Riflessi un bel 94 e devo dire fa delle ottime parate anche su tiri ravvicinati. ultimo pro, il piazzamento 97. Devo dire riesce molto bene a mantenere il suo posizionamento o piazzamento che gli permette di effettuare delle parate interessanti. Veniamo ai contro. Primo contro la presa, 92. È un giocatore che non bloccherà spesso il pallone. Il perché? non lo so, anche se è un 92 in carta e in game sembra molto più basso. Altro contro le uscite. Ragazzi, nelle clip si vede subito che alcune uscite sono veramente disastrose ragazzi e sono delle vere paverate. Altri valori in carta, 75 rinvio, né un pro né un contro. Velocità 53 in game. Sembra giusta. Un po' meno la reattività perché non mi è sembrato un portiere molto reattivo, però non l'ho inserito tra i contro. Questo portiere buffone alto, 191 centimetri con piede preferito destro. Due stelle e piede debole. L'ho utilizzato in una difesa a 4. Tra le alternative abbiamo Courtois, Cech, Loris ed altri. Tra le normali Courtois, tra le leggende Bayard. Dello stesso livello, Julio Cesar Toz. Nella Lega, Andanovic. Nella nazione, Perin. Paragoni con le altre versioni rispetto al SIF ha un più 23. Rispetto al base un più 49. Io ho provato la versione base, devo dire, anche la versione base è molto forte. Differenza di prezzo, Toz è SIF 33k, Toz è Record Breaker 38k, Toz è IF 56k, Toz è base 87.000 crediti. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7. È un portiere che con un 93 di rating dovrebbe far di più, molto di più. Ed è un portiere che ho visto far delle paperate anche davvero bizzarre. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like o mi piace per questa review e per questo giocatore. Qui a Giovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli! Ciao! 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 Ciao!